La tomba anulagica di Isconcias è situata sul Monte Sette Fratelli a 350 metri di altitudine in un magnifico scenario boschivo incontaminato. Il sepolcro è databile dal 1600 a 1300 a.C., detto Saddome Sorcu, ed è il tipo a filari litici e presenta il corpo rettangolare appena rastremato verso il fondo, chiamato a navetta, e nella parte anteriore un'ampia esedra a semicerchio. Al centro dell'esedra o piazzale, con filari di pietre ben lavorate, si apre il cunicolo d'ingresso sormontato da una chitrava rettangolare. Nel piazzale o esedra sono ubicati tre pozzetti per le offerte, perché chi andava a onorare i defunti lasciava degli ex voto per ingressarsi gli dei affinché esaudissero le loro richieste. Le tombe del periodo nuragico sono chiamate dei giganti perché la credenza popolare, data la loro lunghezza, credeva che fossero luogo di sepoltura e di essere enormi. Sono invece tombe prunime dove si seppellivano decine di defunti.